Ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene. Fatemi sapere se anche a Santo Stefano, dopo aver archivato il Natale, siete, non lo so, impegnati in pranzi, cene, robe del genere. Io per fortuna oggi, niente, per fortuna oggi mi riposo, mi nutrirò d'aria perché sono state pranzi e cene impegnative e spero che sia andato tutto bene anche per voi. E ora che abbiamo messo da parte il Natale possiamo iniziare a concentrarci sul 30 di dicembre, voi direte, che c'è il 30 di dicembre? Non c'è niente, il capodanno è il 31, sì, è vero, avete molto ragione, però il 30 di dicembre il Juventus si ritrova per andare a preparare la partita contro il Napoli, questo lo sappiamo tutti, no? Si gioca il 6 di gennaio, il giorno della Befana, il 20.45 e io sono già focalizzato su quella partita lì. Un mi piace a questo video, come al solito oggi andiamo a fare una bella chiacchierata insieme, tranquilli, senza tema andiamo a parlare delle due robe che sono venute fuori in questi giorni e provo a darvi anche un po' la mia opinione. E come sempre scaricate OneFootball, il link qui sotto in descrizione perché si parlerà di calcio mercato. Questo sarà un video in cui andremo a trattare due voci di calcio mercato e quindi OneFootball diventa il vostro compagno di avventura ideale anche per capire se Chiesa, Di Bala, Danilo recupereranno in vista del Napoli. OneFootball, rimanete aggiornati costantemente con OneFootball. Ma quali sono le notizie che sono venute fuori in questi giorni di festa? Tanto mi albottono anche un altro bottone sulla camicia. Beh, si parla di Icardi, si parla di PSG, si parla di Juventus, si parla di Artur. Nel senso che era balzata fuori questa voce più che notizia. La Juventus che avrebbe offerto al PSG il cartellino in prestito di Artur per il cartellino in prestito di Mauro Icardi. Perché questo? Perché di Artur abbiamo già parlato qualche video fa, vi avevo già detto la mia posizione, sapete qual è la mia posizione, rimango di quella posizione. E cioè che Artur è un giocatore interessante, un giocatore ancora giovane, un giocatore sul quale la Juventus per via della plusvalenza messa a bilancio ha investito tanto perché il valore di cartellino è veramente alto, così come è alto l'ingaggio e quindi in Italia difficilmente sarebbe collocabile. Abbiamo parlato dell'ipotesi di scambio con Luis Alberto, l'avrei fatto alla grandissima, proprio perché Luis Alberto andrebbe a dare qualcosa in più al centrocampo bianconero che ad oggi non c'è, mentre Artur, l'abbiamo visto, non è mai stato impiegato o visto da Allegri come potenziale titolare. Nelle ultime partite ha giocato, ha giocato nelle ultime due di campionato, ha giocato anche col Malmo in Champions League. Devo dire la verità, non ha mai convinto al cento per cento, sempre cose basilari, sempre compitino e forse la sensazione è che l'anno scorso mi avesse dato un'impressione diversa all'interno della pochezza del centrocampo della Juventus, dove la Juventus di Pirlo con Artur, Bentancur e McKennie trova la disposizione migliore intorno a questo periodo qua, insomma tra dicembre e gennaio e poi Artur si fa male con l'Atalanta ed è un calvario continuo che arriva quest'estate dove viene operato. Con Locatelli in campo è tutta un'altra musica, non c'è bisogno di dirlo, basta guardare ogni singola partita a Locatelli, è un giocatore che rende molto di più di Artur in questa stagione e forse ha spiegato il motivo per cui Allegri non lo impiegava, in tanti ci siamo chiesti perché non insieme a Locatelli ma insieme e probabilmente era un discorso fisico, un discorso di condizione atletica non proprio eccellente e forse perché ad Allegri non dava troppe garanzie e quindi lo vede in questo momento come l'alternativa a Locatelli quando non c'è Locatelli, in quei rari momenti in cui Locatelli va a riposare perché diventa veramente un giocatore indispensabile per questa Juve e da qui l'idea di aprire alla cessione. Ripeto, per l'uso Alberto l'avrei fatto. Per Icardi, per parlare di Icardi c'è da fare un passo indietro al video in cui vi avevo elencato tutti gli attaccanti e vi avevo detto guardate per me Icardi è un sì ma è un sì perché in questo momento a gennaio prendere uno come Icardi andrebbe bene perché ti manca quel giocatore lì a patto che poi non lo vai a riscattare. Bene, il discorso è questo. Più passa il tempo e più ci avviciniamo all'apertura del calciomercato invernale e più nella mia testa si è fissata questa convinzione e cioè che un colpo a gennaio importante per la Juventus lo abbiamo visto difficilmente all'interno della nostra storia. Davvero difficilmente. Possiamo parlare di Matri, possiamo parlare di Davis ma sono passati anni e anni e anni ma è stato veramente complicato e è veramente complicato andare a trovare un colpo importante con un peso specifico importante per la storia dell'Iventus a gennaio e quindi uno come Mauro Icardi sembrerebbe essere un gran colpo per gennaio. Uno come Mauro Icardi a gennaio è un grande colpo soprattutto perché va ad aggiungerti quel qualcosa che personalmente ritengo uno dei problemi più grandi non il più grande perché adesso faccio un breve escursus quando l'altro giorno Adani a novantesimo minuto ha dato quella risposta con una faccia un po' stizzetta sui card e il gioco di Allegri ragazzi possiamo dire quello che vogliamo, la Juventus in area però ci arriva cioè se vogliamo dire il contrario diciamolo, non ci arriva tanto, questo è vero ma la Juventus delle ultime volte da novembre in poi sembra aver trovato un altro tipo di approccio che è ancora insufficiente, rimane insufficiente però la Juventus ultimamente qualcosina in più rispetto all'inizio lo ha fatto vedere se poi vogliamo passare il luogo comune che la Juventus non arriva mai in area facciamolo, però non siamo onesti con noi stessi c'è da fare tanto di più perché secondo me una squadra che vuole lottare per la Champions League non può fare in 19 partite 27 gol, è una vergogna quindi c'è da aumentare la posizione offensiva ma c'è anche da mettere in area di rigore un giocatore d'area di rigore e quindi io più ragiono sul nome di Cardi più penso che sarebbe un gran colpo di mercato sarebbe veramente qualcosa di assurdo io i Cardi sono stato tutta estate a dire che non l'avrei voluto quando va via Ronaldo il 28 di agosto sono stato tre giorni intensissimi a sperare di vedere i Cardi in bianco nero perché ero consapevole del fatto che senza Ronaldo tanti gol sarebbero venuti meno e avremmo avuto tante più difficoltà e quindi il nome di Cardi dal 28 di agosto al 31 agosto è stato un sogno estivo pensate come mi sono ridotto come deve diventare un sogno estivo invernale e pensate ancora come mi sono ridotto da qui al termine del mercato poi se sarà un altro giocatore non lo so se magari non arriverà nemmeno nessuno non lo so io rimango della mia idea è impossibile che la Juventus non vada ad acquistare un attaccante e da quanto ho capito la Juventus stessa sta andando in questa direzione e sta cercando in tutti i modi di portarsi a casa un attaccante però sui Cardi c'è aprire una finestrella tipo calendario dell'avvento parlavamo prima di questo scambio tra PSG Juventus e Artur Icardi a quanto pare a Parigi avrebbero detto no sai che non ci interessa Artur però Icardi volendo è sul mercato e lo stesso Pocettino lo ha trattato in qualche conferenza stampa dicendo che Icardi comunque diventava un attaccante che poteva far comodo a tanti in giro per l'Europa e anche al PSG stesso e poi l'altra sera addirittura ha risolto al novantesimo una partita complicata dove il PSG stava perdendo e quindi ha tolto la sconfitta al PSG ha regalato una gioia e spero che quella gioia la possa regalare a noi tifosi da Juventus però il PSG non vorrebbe cedere Icardi in prestito con diritto di riscatto che questo rimane personalmente il grande punto perché con diritto di riscatto lo prendo con prestito secco faccio la macchina io e andiamo a Parigi ci sono tre posti per uno e per Icardi per portarlo indietro con obbligo di riscatto no o almeno quant'è questo obbligo di riscatto? perché se mi dite che la Juventus dovrà riscattare Icardi a 30, 35, 40, 45, 50 milioni di euro per un trentenne anche no e qua tanti mi dicono sì però Icardi e Dybala hanno la stessa età e allora perché vuoi il rinnovo di Dybala ma non vuoi acquistare Icardi o non vuoi acquistare Morata che bene o male hanno quell'età? perché Dybala è già nostro Dybala è già nostro e rinnovandolo eviti di perderlo a zero se lo perdi a zero devi andare sul mercato e tirare fuori altri soldi oggi le vie soldi non ne ha quindi se perde Dybala a zero devi investire su un altro giocatore con talento, con personalità con colpi per sopperire anche la mancanza di Dybala e se non riscatta Morata perché costa dei soldi che probabilmente non sono logici da investire su Morata va acquistato anche un altro centro avanti e quindi sostituire Dybala e Morata senza soldi è per questo che Dybala lo rinnoverei ma non acquisterei né Morata né Icardi poi magari Icardi ti fa 60 gol in 19 partite di campionato e te ne innamori e fai di tutto per accapparrartelo però un conto è rinnovare un contratto di un carterino che hai già pagato e tuola è stato completato il costo di ammortamento quindi è un giocatore che ti rimane e eventualmente se ci sarà possibilità di cederlo si vedrà ho già detto anche tutti i contro tra virgolette tutte le cose che ritengo negative sul rinnovo di Dybala trovate i video sul canale in giro però è ovvio che lì non vai a spendere soldi oltre l'ingaggio che comunque devi riconoscere a qualsiasi altro giocatore soprattutto se un giocatore importante andrà dagli 8 ai 10 milioni per forza di cose se non di più perché oggi gli ingaggi dei calciatori importanti sono tutti elevatissimi e lo sappiamo l'abbiamo visto con Cristiano Ronaldo che prendeva 31 milioni di euro nitti a stagione qualcosa di vergognoso quindi sì è rinnovo per non perdere un calciatore a zero e tornare sul mercato no il riscatto è un giocatore come Morata che ci ha dato qualcosa ma sappiamo che Morata l'ho detto anche nelle pagelle sta facendo una stagione in linea con i suoi numeri le sue statistiche e quindi da Morata se pretendi di più vuol dire che non conosci la storia di Morata se non sei soddisfatto vuol dire che la storia di Morata non ti è nota all'interno di tutte le realtà che ha affrontato ha fatto meglio di così a livello statistico solo nel Real Madrid dove non giocava titolare dove entrava e le risolveva ma era la Real Madrid delle tre Champions consecutive quindi se vuoi qualcosa di più da Morata probabilmente gli stai chiedendo qualcosa che non è le sue capacità per questo che vi dico che non è normale che Alvaro Morata sia il centravanti titolare da Juventus centravanti titolare da Juventus che è il massimo record che ha fatto nella squadra delle tre Champions consecutive in campionato di 15 gol capite da voi che c'è qualcosa che non va e capite da voi che allora Icardi diventa sì quel nome però un giocatore di 30 anni non lo puoi andare a mettere al centro del progetto a differenza di Bala che è già tuo al centro del progetto con uno stipendio elevato un riscatto elevato in un momento in cui non hai soldi quindi se il PSG vorrà l'obbligo di riscatto per Mauri Cardi a tutti i costi se no non lo lascerà partire per quanto vi ho detto Icardi è il colpo è il top player a gennaio uno così forse non abbiamo nemmeno mai preso per quanto Icardi non sia più l'Icardi stratosferico dell'Inter lo sappiamo ho fatto anche il video in cui vi spiegavo un po' le statistiche di Icardi in questa stagione e le statistiche di Icardi in Serie A io Icardi ad oggi lo prenderei grandissimo sì con obbligo di riscatto anche se sono 30 milioni grandissimo no perché sono 30 milioni più almeno 7 milioni di euro all'anno per almeno 3 anni 4 anni e questo non ti va a impedire solo questo calcio mercato ma anche quello dopo quello dopo ancora e magari se lo fai di 4 anni dopo 3 anni che lo vuoi vendere per forza perché in scadenza non lo riesci a vendere diventa un esubero ti rimane lì e ti blocca al mercato per i prossimi 4 anni quindi questo è andare ad investire così tanto in un giocatore non me la sento già l'investimento per Dybala è importante importantissimo degli acciacchi fisici e quello che è ma ribadisco non gli paghi il cartellino perché è già tuo Icardi devi pure pagargli il cartellino fargli un progetto di almeno 3-4 anni con uno stipendio importante con la prospettiva di farlo diventare come era diventato Higuain come era diventato Mandzukic come era diventato Kedirad come era diventato adesso Ramsey come potrà diventare Rabiot quei giocatori che dopo costano troppo a livello di gestione a livello di bilancio e non hanno mercato perché hanno tanti anni ormai cioè penso che sia diventata palese questa cosa un ingaggio alto e un costo del cartellino alto non lo puoi più fare sui Cristiano Ronaldo che poi ti fai minusvalenza perché vuoi andare via lo fai su Chiesa lo fai su De Litt perché poi questi giocatori mantengono elevato il costo del cartellino e hanno tanti anni di carriera avanti diventano appetibili sul mercato e come De Litt magari quest'estate andrà via che ne so sparo lì 100 milioni di euro tu ne hai speso 85 sono passate 3 stagioni sportive hai fatto una plusvalenza reale grossa vera che ti ha portato liquidità ti ha alleggerito di un ingaggio importante e questo gicchino lo puoi rifare perché ora dirò una cosa che forse non piacerà ma la Juventus di oggi al 26 dicembre 2021 non è più la squadra che i giocatori scelgono perché è la Juventus non è più così mi dispiace dirlo ma oggi questa è una Juve di passaggio in cui arrivano i De Litt arrivano i Chiesa ma anche arrivano i McCann se vogliamo fanno 2-3 stagioni fatte bene i top club europei si accorgono di questa cosa Dream salve Juventus come va? sono il Bayern Monaco sono il Chelsea sono il City sono il Liverpool sono il Real Madrid ho questi 100 110 120 milioni di euro per te per quel giocatore lì me lo dai? e come fai a dirgli no? se l'atto economico non puoi competere in questo momento nemmeno l'atto sportivo quindi in questo momento io la Juve la vedo una specie di dimensione europea del Sassuolo se vogliamo fare un parallelo Borussia Dortmund che va a prendere i giocatori giovani vedi Holland li fa esplodere e poi una certa è costretta a venderli noi saremo costretti a vendere Dalit oggi saremo costretti a vendere Chiesa però spero di no Chiesa in realtà perché almeno non c'è il procuratore Raiola però possiamo fare questo giochino cercando di prendere i giocatori più giovani interessanti in circolazione farli esplodere da noi e a forza di dai dai magari crei una squadra competitiva che ti riporta ad alti livelli riesci ad autoalimentare a livello finanziario la tua squadra e torni ad essere non la squadra di passaggio ma la squadra di arrivo poi non devi cadere in una tentazione come negli altri anni dove è arrivato a un punto in cui i giocatori ti sceglievano solo perché avevi soldi come Ramsey come Rabiot lo stesso Ronaldo viene perché la Juventus è in grado di pagargli lo stipendio poi è vero che sportivamente si andava bene però poi quello è stato un cortocircuito vero e proprio le parole di Buffon degli ultimi giorni al di là dell'aspetto finanziario dell'aspetto di gruppo ce l'hanno sottolineato la Juventus vinceva per il sacrificio per lo spirito di gruppo poi ci siamo snaturati abbiamo iniziato a pensare in funzione di Cristiano Ronaldo quindi queste sono tutte briciole che abbiamo perso durante il percorso sulla strada in questi anni e sono briciole che ci portano a capire dove abbiamo sbagliato se le ignoriamo completamente continueremo a fare i stessi errori e quindi a prendere i carni con obbligo di riscatto a 30 milioni di euro che andrà a ostacolare i prossimi tre mercati o riscatteremo morata quest'estate se invece decideremo di sacrificare anche tra virgolette l'immediato perché con i carni magari la rincorsa a Champions è più facile però poi ti blocca per tre anni il mercato se sacrifichiamo l'immediato per il futuro magari manderemo giù dei bocconi amari come in questa stagione o come nella stagione precedente però sul lungo vedremo i risultati questo è l'unica cosa che vi posso dire ed è il mio augurio post natalizio per questa Juve e spero che anche voi possiate condividere questa cosa noi ci vediamo domani con un nuovo video anche perché ribadisco ripeto siamo in avvicinamento a una partita importantissima nella quale non avremo i card saremo questi qua e dovremo fare il nostro meglio con questi qua grazie a tutti